Il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno verso le elezioni, con la conclusione del quinquennio iniziato nel 2019. Si vota dal 1 al 5 ottobre in tutti i comuni del comprensorio per decidere la composizione della squadra elettiva che avrà il compito di guidare l'ente per i prossimi 5 anni. Sono chiamati a votare i consorziati, ovvero i proprietari di immobili, sia persone fisiche sia persone giuridiche di immobili nel territorio del comprensorio. Le votazioni appunto sono dalle 9 alle 18, presentandosi con un documento di identità e nel caso di legare l'appresentante con un documento che attesti i poteri di firma, ad esempio per le società una visura camerale. 35 i seggi allestiti dal Consorzio di Bonifica sul territorio di competenza, indipendentemente dal comune in cui ricadono i beni. Queste indicazioni, le rubricazioni dei seggi, si possono trovare nei due siti dedicati. Quello del Consorzio, cb.valdarno.it e il sito unico del Consorzio Toscani, bonificalvoto.toscana.it. Sono complessivamente 41 invece i candidati pronti a scendere in campo per andare a comporre la nuova assemblea consortile. Uniconsorziato ha diritto a un voto. Va detto che le liste sono divise in tre fasce, quindi uniconsorziato potrà esprimere un voto all'interno della fascia di appartenenza. Le fasce sono state determinate in base al contributo che viene pagato annualmente. È possibile il voto di preferenza. Praticamente si vota ponendo una X o sul simbolo della lista oppure sul nominativo di un candidato che viene riportato all'interno della lista. In quel modo il voto va sia al candidato sia alla lista. Quasi in tempo reale praticamente finiscono il 5 e il 6 saremo in grado di programmare gli eletti. Grazie.